eh 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 adesso tutto è migliore eh 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 adesso ha una ragione ho visto le guardie del test, in tasca è una cosa che non frate non è concesso e terza non spendo dalla finestra, mi sembra chiaro che non mi interessa da battere mi gira la testa, questa podesta ho con la mia tipa su una testa